Avevano ragione quelli che scioperavano. Testimonianza di Giovanni Battista Comba, detto Batì della Luba, nato a Vignolo, frazione Pavia, classe 1892, contadino. Eravamo nove in famiglia, padre, madre, quattro maschi e tre femmine. Avevamo poca roba. Due-tre giornate di bosco e una vacca. Mio padre negoziava, portava il pollame in Francia e dalla Francia tornava con pelli di volpe e di faina. Partiva dalla frazione Pavia di Vignolo, con un carretto a mano ben carico, con su anche 700 chili, mica solo gabbie di galline, anche una gabbia di conigli e due cesti di uova. Dopo il colle di tenda cominciava già a vendere, specialmente le galline ovaiole erano cercate. Con la stagione buona faceva un viaggio la settimana ed inverno ogni venti giorni. Nemmeno la neve lo fermava. È morto quando io ero ancora uno sciocco, uno che non sa, un bambino. Girava per le montagne francesi a cercare le pelli, le comprava dai pastori e un brutto giorno non è più tornato a casa. Siamo andati due volte a cercarlo. Lì era passato, qui era passato, ma il corpo non si trovava. L'ha poi trovato un pastore, un ragazzino. Dopo 40 giorni ha visto un alpestoc che usciva dalla neve sul fondo di un burrone. Allora siamo tornati in Francia. L'abbiamo seppellito a Molière. Il mio maestro, Tanciu, era un bell'uomo, forte, istruito, ma rovinato nelle gambe. Aveva le gambe molli. Andavamo a scuola nella sua stalla. Noi della terra goffa, dura, grossolana, di Vacherot, e qualcosa imparavamo. I vecchi dicevano che Tanciu l'avevano rovinato le masche. L'aveva rovinato un uomo di qui, che lavorava di fisica. Da piccolo Tanciu era ardito, sveglio, come un farfallone. Un giorno va a prendere l'acqua alla fontana e lì incontra il vecchio che lo colpisce con il malocchio. Come torna a casa, sente già le gambe molli. È rovinato per sempre. Ma adesso che abbiamo nominato le masche, dobbiamo dire giorno. Dobbiamo dire che oggi è martedì. E non sbagliarci, se no le masche potrebbero farci del male. Così mi hanno insegnato i miei vecchi. Ma è meglio se cambiamo discorso. A dieci anni ero già un Vacherot. A quindici anni decido di andare in Francia, da solo. Ma mia madre non vuole. Tanto faccio che mi firma l'autorizzazione in comune. Si pagava quattro soldi e con quel foglio firmato si poteva andare fino in capo al mondo. A Vignolo avessimo voluto lavorare per niente. Non trovavamo. Dava che? Non ci davano da mangiare. Almeno in Francia si mangiava. Col treno arrivo a Vievola. Lì incomincia il servizio con i break. Ci sono due o tre ditte in concorrenza. E i garzoni dei break litigano sempre tra di loro. E giù bote da magnin per accaparrarsi i clienti. Certe volte, per via della concorrenza, portano i clienti gratis fino a Nizza. E là gli pagano ancora il caffè. A Nizza mi presento alla Gipiera, la cava di gesso dove lavoravano tanti di Vignolo. Pazienza, un mio vicino di casa, appena mi vede mi chiede se gli ho portato i toscani. Gli ne offro due. E l'indomani sono già al lavoro. Dalle cave portano giù le pietre con i carri. E noi con le mazzette le riduciamo a pezzetti come ghiaia. Niente libretto di lavoro. Niente marchette. Quel che conta è lavorare. Guadagno tre lire il giorno a fare 12 ore. Cinque soldi d'ora. Nell'estate lavoro quasi tutte le notti. Dopo le 12 ore del giorno faccio ancora la nottata. Altre sei ore. Così guadagno 4,50 per le 18 ore. Smonto alle 2 della mattina. Dormo tre ore. Poi ricomincio la giornata e la notte. Già che mica come adesso che fanno tre ore e trovano già a lungo. Ci sono tre macine che macinano di continuo. Così il lavoro non manca mai. Di Vignolo siamo più di 60 su 200 operai. Quattro donne di Vignolo tengono pensione. Ci passano un piatto di minestra o un piatto di carne. Di carne di montone. Le comprano a sacchi le teste dei montoni. A due soldi l'una. Perché i francesi non le mangiano. Per il mangiare pago tre lire e sessanta centesimi la settimana. Senza il vino, senza il pane e il companatico. Che era poi il formaggio o il salame. A dormire pago una lira la settimana. Quattro pali, due assi, un po' di paglia e il giaciglio è fatto. I francesi più o meno vivono come noi. Si portano una pagnotchina di pane. Lavrono. Ci infilano un po' di olio e un po' di olive. Si accontentano del pane bagnato. Nell'ora di colazione spalancano il giornale e mentre mangiano leggono. La domenica un po' di allegria. Cantiamo a gran voce. Giochiamo al pallone a pugni. Al pallone elastico. Ragazze ce ne sono tante ma non sguizzanti, storte come adesso, più serie. A volte scendiamo fino a Nizza. Ma là si spende troppo. Dopo dieci mesi torno a Vignolo con 80 scudi di risparmio, 400 lire. Tanto da comprare quattro piccole vacche. Consegno tutto a mia madre. L'anno dopo vado ancora al gesso, alla solita gipiera. Poi cambio lavoro. Vado alle saline di Ieres a togliere il sale. Un lavoro a Cottimo che comincia il 16 luglio. Grande fatica nei bacini a fare i mucchi. Ognuno ha i suoi mucchi da fare e come ha finito alza la pala e arriva il caporale a controllare e segnare. Calziamo scarpe alte di corda perché il sale brucia i piedi. Siamo tutti italiani. Tutti scappati da casa. Io e uno di qui, Paiera, andiamo a dormire sotto le piante su un po' di erba secca. E cioè a passare le notti dormendo all'aperto. Paiera canta bene. Vengono a cercarlo mentre dorme. Lo vogliono nelle osterie. Così quasi tutte le notti si fa allegria. Le canzoni di allora erano belle. Moretto, la barbiera, tre surelle che venu da Liun. A volte Paiera canta per le strade e la gente si ferma ad ascoltarlo. Uno di noi passa poi con il cappello a raccogliere i soldi. Ma lui non vuole. Paiera sembrava una radio tanto cantava bene. Nel 1911 sono coscritto nei lancieri di Aosta. A Ferrara e poi a Ravenna. Nel 1912 si parla di partire per la Libia. Io ero a casa. Avevo 14 giorni di licenza. Sono venuti i carabinieri a prendermi. La licenza me l'ero guadagnata a premio a montare sull'albero della cuccagna. Era proprio sulla punta dell'albero la licenza. Una busta gialla. Quei maramau, cioè meridionali, terroni, non erano capaci a salire. Noi eravamo tre soci. Io, uno di Mondovì, e un toscano. Un boscaiolo dalla testa rossa, ma andava anche come un gatto. I miei soci hanno fregato un po' l'albero. L'hanno pulito un po' con l'albero. Ma tu scherzi. Non scherzo, vado. Io mi sono arrampicato come uno scogliattolo e sono andato. Lassù mi sono aggrappato alla ruota. Ho preso la bandierina di seta con lo stemma del reggimento. Su ho preso la busta gialla. I soldi. Ma più che mi piaceva era la licenza. Appresso avevo solo da partire. Otto giorni di licenza e in più il viaggio. Il capitano mi ha chiamato. Se mi fai un favore, rimandi la licenza di qualche giorno e io ti do poi cinque giorni di più. Ho accettato. C'era sempre sciopero. Gli schiavandei del posto erano pagati poco o niente. A momenti non potevano nemmeno mangiare e così scioperavano. C'erano padroni che avevano una tenuta come da qui a Cuneo. E questi grossi padroni facevano venire dal Venetro altri schiavandei al posto di quelli in sciopero per i lavori della canapa. Era così a Ferrara e a Ravenna. I veneti arrivavano sempre di notte, chiusi nei vagoni delle bestie. Facevano anche una vita. Io mi dicevo sempre, andrei a impiccarmi piuttosto di fare una vita così. Andavamo ad aspettarli alla stazione e li accompagnavamo al lavoro nei campi. E poi a guardarli a lavorare. Un plotone per volta con il moschetto pronto perché se no arrivano quelli dello sciopero. E li accoppavano tutti. Eh, arrivavano con i tridenti e con le zape e i bastoni. Le grosse cascine erano come caserme, guardate dai carabinieri e da noi soldati. Lì i veneti dormivano, lì gli passavano il rancio e sul lavoro sempre noi a guardarli. Un giorno che c'era un festino poco distante, un veneto ha voluto andare a fare il bell'imbusto, il don Giovanni, l'ha. E poi l'hanno trovato in un fosso morto. Oh, ne hanno ammazzati due o tre dei veneti. Se potevano prenderli. Avevano altro che ragione quelli che scioperavano. Erano tanti quelli che scioperavano in gruppo. E canzoni e canzoni. Cantavano sempre uomini e donne, giovanotti e ragazze. Si mantenevano andando a pescare, a prendere rane e anguille nei canali. Vivevano così. Anche i veneti guadagnavano poco. Bisognava che ci fosse anche una gran miseria dalle loro parti, se venivano a lavorare sotto i moschetti dei carabinieri e dei soldati. Io mi dicevo, ma piuttosto vado a fare il ladro che lavorare così. Se dovevano andare a posare i pantaloni, toccavano avere una o due sentinelle con moschetto spianato. In un posto il prefetto si è preso un mattone sulla testa. Lì c'era la fanteria. Gli scioperanti tiravano pietre e la fanteria non riusciva più a tenerli. Allora siamo arrivati noi della cavalleria, con i cavalli. Oh, fanno paura, eh. Li toccavi un po' con gli speroni e ne avranno messi trenta in prigione quel giorno a Coparo. Ah, era un brutto mestiere il nostro. Poi sono andato a casa in licenza. E infine siamo partiti per la Libia, da Napoli. A Palermo siamo scesi dal piroscafo. Eravamo una decina di cuneo. E abbiamo fatto una grossa sbrunza. Il piroscafo cornava che era ora di partire. Sono venuti i carabinieri. Ci hanno portati sul piroscafo di peso. Siamo sbarcati a Bengasi. Non c'era il porto. Il mio piroscafo si è fermato lontano dalla terraferma. Abbiamo caricato i cavalli sui barconi. Nel trambusto l'orologio mi è caduto in mare. L'ho pescato, ma non è più andato bene. Sul piazzale di Bengasi c'era una montagna di sale, alta come la nostra chiesa. C'erano le saline lì. E c'erano tante donne. Tutte donnacce. Nere, con delle boccacce sporche. Sapevano perfino l'odore di selvaggio. Faceva schifo a vedere. Poi abbiamo preso l'abitudine anche a quelle donne. Erano calde. Oh, come mettere un chiodino in un fornello. C'era il pericolo di malattie. Un maresciallo, un maraman di Grosseto, un toscano, era un bestemmiatore. Nella sua baracca tutti i giorni ne aveva una. Noi avevamo la base a Bengasi. Guardavamo i beduini. Andavamo a fare i rastrellamenti. Era come quando qui passavano i tedeschi a prendere i partigiani. Partivamo a piedi in colonna. Andavamo a bruciare tutti i raccolti di orzo nelle campagne. Raziavamo le pecore, i montoni. Oh, ne mangiavamo sempre carne di montone. Volevamo farli perdere i beduini. Oh, puttana. Tutta la cirenaica la comandava generale Amerio. E cantore era invece maggior generale degli alpini. Era sempre cantore che comandava le colonne dei rastrellamenti. Sparavamo. Porca loca. Era mica proibito di sparare. Eh, la prima volta non sono andato a rastrellare perché avevo il cavallo ferito a una gamba. Non è più guarito. L'ho poi venduto a Modena, a un vetturino. Era un buon cavallo da corsa a cui mi ero affezionato. La seconda volta noi eravamo a cavallo e gli ascari a piedi. E c'era con noi anche l'artiglieria. C'era la banda araba, 200 e più arabi con i loro cavalli. Ci siamo incamminati nel deserto. Tutti i pozzi erano avvelenati. Soffrivamo una gran sete. Di notte, fuori dalle tende, mettevamo le cavette. La ruggiata scendeva a gocce e rimedievamo un cavettino di acqua. Da mangiare ci davano solo roba asciutta, scatolette. Si può dire che ogni giorno c'era un combattimento con morti e feriti. Gli ascari ammazzavano tutti, le donne e anche i bambini. Per ammazzare adoperavano le sciabbole di Menelic. Noi dicevamo agli ascari, ma è un bambino. Questo venire grande, venire beduino come gli altri e mettere al mondo altri beduini. Le donne erano cariche di gioielli al braccio e al collo. Poi, mica roba di valore. Era roba di latta. Gli ascari avevano gli zaini pieni di quella roba lì. E gli ascari non avevano compassione di niente. E come erano lessi ad afferrare in un greggio gli anelli più belli. Piantavano la sciabbole nella schiena degli agnelli e in un attimo li pelavano. I beduini erano armati di mauser con le pallottole lunghe. Erano vestiti di stracci, con quei baracanas che un po' li coprivano. Il generale Amerio li addomesticava lui i beduini. So che due o tre beduini li hanno fatti impiccare. Prima gli hanno fatto scavare la fossa. Per sentito dire, Amerio era già stato in Africa e le donne l'avevano castrato. Eppure si è sposato dopo che è tornato in Italia.